Sì, certo, Rimini non può essere considerato una città d'arte, anche se possiede quello che è forse il più importante monumento del Rinascimento italiano, il Tempio Malatestiano, quello che è stato definito l'emblema stesso del Rinascimento. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è questa, è indispensabile essere una città d'arte per concorrere al titolo di capitale italiana della cultura. L'altra domanda che ci dobbiamo fare è che cosa intendiamo per cultura? Intendiamo soltanto la cultura tradizionale, la cultura umanistica, quella che negli anni Ottanta veniva chiamata anche un po' così ironicamente la cultura colta. Io sono convinto di una cosa, che il nostro futuro, il futuro dell'umanità, sarà un futuro multiculturale e pluriculturale. Da questo punto di vista se Rimini a rigore non corrisponde perfettamente all'idea tradizionale di cultura anticipa notevolmente un'idea futura di cultura. Perché Rimini è una città complessa, è una città dalle molte culture. C'è la cultura dell'ospitalità. Nel mondo antico la distinzione tra civilizzati e barbari era la distinzione tra chi offriva e chi non offriva ospitalità. Tra l'altro la cultura dell'ospitalità è frutto dell'esperienza di molte generazioni, non è una cosa improvvisata. Poi la cultura del buon vivere. È una cultura del buon vivere che contiene al suo interno appunto la cultura del cibo, la cultura della cura del corpo e della salute. È anche la cultura del divertimento, perché no? Un'altra cultura è la cultura identitaria e del territorio che Rimini pure possiede. Rimini non è più monoculturale, soprattutto negli ultimi anni è riuscito ad evolversi appunto dalla monocultura del turismo. Rimini non è Miami, Rimini non è Las Vegas, Rimini è una città che ha più di duemila anni e che ha avuto momenti alti, passato almeno tre, in età romana, soprattutto in età romana imperiale, in età comunale e soprattutto poi in età malatestiana. Rimini è già stata una capitale della cultura, è stata una capitale della cultura con Sigismondo Pandolfo Malatesta, era centro appunto di attrazione di artisti, di intellettuali, quindi una vera e propria capitale della cultura. E infine Rimini è sicuramente capitale dell'immaginario. Ecco, si pensi a quanti libri, a quanti romanzi, a quante canzoni, a quanti film parlano di Rimini. L'immaginario anche questo stratificato, complesso, è un immaginario che complende appunto l'immaginario balneare, ecco, l'immaginario della notte e infine, inevitabilmente direi, l'immaginario felliniano. In che senso? Non nel senso banale che Federico Fellini è nato a Rimini, ma nel senso che Rimini è stata di Federico Fellini la radice del suo immaginario. E questo immaginario poi l'ha prestato alla città, Rimini in qualche modo è quella che produce l'immaginario di Fellini, è quella che dall'immaginario di Fellini appunto viene contaminata. Per tutte queste ragioni io credo che Rimini abbia tutte le carte in regola per poter concorrere a Capitale della Cultura 2024.